Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Ricorderete lo spazio che JAPTV ha dedicato nelle scorse settimane al caso Stazione. Le dichiarazioni dell'assessore Azzaretti prima e una puntata di Vox Populi poi hanno acceso i riflettori sul presunto degrado che coinvolgerebbe lo scalo ferroviario della nostra città. Situazione di degrado confermata dai cittadini da noi intervistati in maniera casuale nei giardini della ferrovia. In particolare la signora Patrizia che da anni lavora come taxista e che quindi conosce la zona di Piazzale Marconi più di molti altri aveva denunciato non solo il degrado che la circonda ma anche una serie di disservizi che coinvolgono lavoratori e cittadini. Per esempio il mancato funzionamento del centralino dei taxi. Oggi finalmente la tanto attesa notizia. Dopo sei mesi di blocco la centralina funziona e il numero pubblicizzato sugli schermi luminosi ai confini di Voghera è finalmente attivo e può tornare ad essere utilizzato da chiunque ne abbia bisogno compreso l'ospedale, il pronto soccorso e il supercarcere. Bisognerebbe quantificare le perdite e chiedere un rimborso d'anni ma eviteremo di farlo dicono a voce bassa i taxisti che possono finalmente tornare a lavorare in condizioni ottimali. Ma le belle notizie non sono finite dopo la nostra segnalazione. Molte delle panchine marce e traballanti presenti nei giardini della stazione sono state sostituite con altre nuovissime. Grazie a tutti.